nuova edizione nella giornata di domenica 6 ottobre della festa d'autunno organizzata dalla proloquo degli e con il padrocinio del comune nonostante il tempo incerto la gente ha deciso di godersi una giornata in giro per la città curiosando acquistando sotto gli antichi portici i prodotti locali quali torcetti formaggi e vini e partecipando al pranzo d'autunno in collaborazione con l'associazione tra i ciuchè nella magnifica piazza castello da contorno nella stessa piazza la particolare esposizione di auto d'epoca e un particolare ultraleggero e ancora il battesimo della sella e le danze e balli occitani con dino tron musicista del delfino i suoi allievi denia di nota anche la camminata ducale nel giardino e lungo la cinta del castello con un percorso di 7 chilometri circa ancora una volta la proloquo degli e ha quindi animato le vie cittadine con uno dei tanti eventi amati non soltanto dagli aladiesi una carmessa del sapore d'autunno che tornerà puntuale il prossimo anno ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.